Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Incommensurabile, inspiegabile e inaccettabile dolore familiare e comunitario ad arena, nel Vibonese, dove, sabato scorso, all'età di 15 anni, è morto per una grave malattia Massimo Barilaro, apprezzato ragazzo frequentante l'Istituto Industriale di Vibo. Una notizia lancinante, che ha scosso l'intera comunità e tutto il comprensorio. Da quanto si è appreso la malattia, leucemia, gli è stata diagnosticata circa un anno fa, dopo un malore durante la cresima. Da allora è stato un calvario, in cui il povero Massimo è passato da un ospedale all'altro. Ne è uscito solo un giorno, a Natale scorso. E, in questo frangente, ha ricevuto pure un trapianto di midollo, dalla sorella, secondo le informazioni. Un dolore immenso per il padre Mimmo e la madre Francesca Cavallaro. Un episodio, come detto, che ha scosso un intero comprensorio e che ha spinto l'amministrazione comunale, guidata da Nino Schinella, a proclamare per la giornata di domani, il lutto cittadino.